Kasumi Limited, una serie composta da tre canne che va ad implementare la serie Kasumi. Questa serie composta da tre canne è fatta con una concezione un po' diversa dalle altre. Infatti come azione abbiamo tre azioni fast. Il tipo di lavorazione che abbiamo utilizzato è completamente diversa perché le altre sono scartate e verniciate, mentre su queste abbiamo usato un tipo di lavorazione che abbiamo usato sulla serie Premium qualche anno fa. Si tratta della cottura della canna quando va in forno. Praticamente viene avvolta da una piccola pellicola larga un centimetro che viene avvolta a spire fino ad arrivare al vettino della canna. Queste spire più strette sono, più materiale viene usato di questo tipo cookie, quello che si mette nei forni veramente, però è un materiale apposta per reggere le temperature altissime. Abbiamo fatto tantissimi giri perché più materiale l'avvolge, più la resina mantiene le sue caratteristiche. Grazie a questo procedimento riusciamo ad ottenere la massima resistenza della canna. Queste azioni appunto così veloci si riescono ad avere quasi sempre con un tipo di lavorazione in questa maniera. Inoltre, rispetto alla serie Kazumi regolare, è stata fatta nella versione due terzi. Abbiamo fatto il montaggio degli anelli sulla parte superiore essendo più lunga. Appunto, due terzi è il manico, cioè un terzo è il manico e due terzi è la canna. Le tre azioni si suddividono in due solid e una tubular. La prima solid è una OL. È una OL molto veloce, molto rapida, con una schiena molto potente. Questa va a implementare, come dicevo, la serie precedente perché la OL che abbiamo nella serie attuale è molto meno potente. Questa è molto più forte come schiena, è una punta molto reattiva, con un vettino solide lungo 30 cm. La seconda solide invece è una 60 cm, è leggermente più corta. E questa l'abbiamo ideata per pesche molto reattive o partenze. La partenza normalmente la facciamo in una canna tubular, però questa l'abbiamo pensata proprio per fare una partenza un po' particolare, dove avere una massima sensibilità, quando l'abboccata anche in partenza è un po' subdola. Il solid è molto rigido, quindi fa muovere molto bene anche la canna, non è che muove solo il solid. Quindi diciamo che è una canna tubular come azione, perché si piega abbastanza in modo progressivo, ma ha una sensibilità maggiore avendo il solid pieno. L'ultima canna è una tubular, praticamente un'azione light, anche se come ho detto entrambi le canne, le tre canne, sono molto più potenti di quello per cui diciamo l'azione direbbe, perché una light sarebbe un'azione molto regolare, molto soft, per una ricerca con ondulanti massimo fino a 2 grammi. Su questa ci possiamo invece spingere anche su ondulanti da 3,5 grammi. Sono molto rapide tutte e tre, abbiamo selezionato una metalleria diversa l'una dall'altra, così quando sono in rastrelliera le riconosciamo al volo sulle azioni che andiamo a scegliere, perché molto spesso una difficoltà che abbiamo quando abbiamo magari canne molto simili è riconoscerla in mezzo alle altre. Questa è praticamente un'azione, la 60L, che è la tubular, alla metalleria argento. La 60ML alla metalleria dorata e l'ultima, la 61UL, alla metalleria completamente nera. Adesso non ci rimane che vederla in pesca, andiamo e vediamo le azioni dal vivo con le nostre trottine. Il primo test lo facciamo con la canna più potente, che è la 60ML. Come ho detto, questa è una canna con il solid, però si presta benissimo anche a una partenza, perché il solid lavora abbastanza in modo omogeneo anche con la canna. Ondulanti da partenza, diciamo, intorno ai 3 grammi. Io ho messo un hammer, ora non è una partenza perché non abbiamo pesce fresco, ho messo un hammer da 3,5, però bianco-verde. Vi fa vedere che comunque è una canna che tiene benissimo anche ondulanti pesi. Si lancia a lungo, anche senza sforzare, anche se sono controvento. Come si vede, l'azione è molto potente, però la mangiata non è stata fortissima. Sono riuscito a sentire la trotta, nonostante la distanza, e pesco con il nylon. Quindi la sensibilità, diciamo, perfetta. La piega, acconsente benissimo le fughe, grazie ai solid. La piega, vediamo della canna, è veramente perfetta, anche del solid. Quando andiamo a snamare, acconsente benissimo e ritorniamo in pesca. Questa l'ho presa veramente al massimo di lancio, una sensibilità impressionante. Rimango veramente... la trotta non è nemmeno grande. Poi il canno è molto potente, quindi si riesce... Se vogliamo fare velocità specialmente, ad essere velocissimi, perché la schiena ti aiuta nel recupero veloce e per essere subito pronto in pesca. L'azione è velocissima, si sente anche dal rumore. Questa vettina ti permette anche delle belle cercatine, sinceramente... è una bella piega, davvero, eh. Vai. Direi che se si fa una partenza con una canna del genere abbiamo un bel aiuto in fase di attacco, ma anche un bel aiuto in fase di recupero, perché la schiena è veramente soda. Quindi ti aiuta a fare velocità, a portare via il pesce veloce, vicino al guadino. Questa è una canna molto versatile, perché a parte avere una schiena molto potente, un solido abbastanza duro, riesce a darti soddisfazione anche su pesche a micro, perché ci sono quelle condizioni dove la mangiata è veramente corta e quindi una canna che è subito reattiva sulla mangiata ti permette di allamarlo immediatamente. L'ML ha anche questa caratteristica, naturalmente non montata a nylon, ma montata ad ester. Allora, il secondo modello che prendiamo in esame è la 60L. Questa è una canna tubolar, quindi diciamo una canna per fare un po' di ricerca, molto bellina per i crank. Anche questa, come tutte e tre le canne, ha una schiena abbastanza potente e la parte di sopra abbastanza regola, anche se sul lancio è molto veloce. Come ho detto, si può fare una ricerca, ma anche una partenza su trote non grandi, cioè su trote intermedie, trote da 120-150 grammi, con ondulanti da 2 grammi, come il K1 da 2.1 per dire. Secondo me è una canna che si presta benissimo su questo range di spoon. Eventualmente dopo si farà delle prove anche con i crank, anche perché è stata studiata proprio per pescare con i crank leggermente più palettati, che vanno un po' più giù. Intanto proviamo con lo spoon. Lancia benissimo anche questa. Essendo azioni veloce, si prestano molto bene per il lancio. Ecco, sulla mangiata corta sono canna abbastanza morbida di testa, quindi con la ML di prima avrei avuto difficoltà nell'alamata. Con questa invece si è impiccata da sola e non la snami perché, avendo una vettina, ora sei snamata perché la tengo lì, ma avendo una vettina molto reattiva ma morbida, ti acconsente la mangiata corta. Andiamo a pescare la canna alta. Ecco, un cambio di assetto, di movimento, gli è piaciuto subito. Curve molto belle, molto lineari. Sia sulla parte controspina, anche se queste canne di spina ne hanno veramente pari a zero. Come si vede, hanno delle pieghe veramente belle. Allora, la seconda prova la facciamo appunto con il crank, perché oltre ad essere una canna da ricerca o da partenza con trote piccole, secondo me è molto bella proprio per la pesca a crank. Questo è un crank piccolo, è la Leica 27. La versione SSS, slow-slow-sinking, che va giù molto piano e quasi un suspending, e con questa luce qui, secondo me, questo è un colore veramente eccezionale. E infatti, la scelta subito giusta, perché ha una bella schiena, però la vetta consente la mangiata, e secondo me per la pesca a crank è la canna perfetta. Primo lancio, e anche un bel pesce. L'ultima canna è la 61L. Naturalmente pesca principale micro, ma si adatta benissimo anche a pesca con crank e piccoli jerk. Però la pesca per cui è stata studiata è la pesca a micro. Io ho messo un Kasumi da un grammo, perché c'è un po' di vento e mi permette di lanciare abbastanza, nonostante il suo peso ridotto. Una canna molto sensibile, molto reattiva, sia nella parte del solido che nella parte della schiena. Sensibilità estrema. Ecco. Mangiata corta e controvento, ci vuole una canna reattiva, perché con una canna troppo morbida non si riesce a lamare il pesce, ma soprattutto perdiamo le mangiate proprio. Tutta la serie lavora veramente bene, anche nella fase di slamatura, perché ha consente tante e la curva è perfetta, perché se la curva non è perfetta si rischia anche di rompere le canne. Invece, come si vede, nonostante siano molto veloci o meccane e rigide, la piega è molto bella. Naturalmente, nelle situazioni come adesso, un filo dell'ester è necessario, perché la canna ti dà quella sensibilità che ci vuole, la prontezza in fase di allentamento del filo, ma un filo rigido e reattivo è il connubio perfetto. Direi che con queste tre canne abbiamo una serie Kazumi veramente completa, cioè sono nove canne che ti permettono di pescare in qualsiasi situazione e in qualsiasi momento. Sensibilità massima, leggerezza massima nei carboni, gli anelli parlano da soli, i TZ della Fuji, Torsite e Titanium completano veramente un connubio perfetto. Kazumi limited come gli spartani. sono 300, 100 pezzi a modello numerate da 1 a 100, quindi solo i 300 avranno l'opportunità di averle. Kazumi limited. 시는 una granara di edzione, 30, 100 e 100 per il flore di la comandativa di un flore di un flore di di un flore di uno, e che sceglie di un flore 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 di un flore,